Ciao a tutti ragazzi, mazza che sound di merda che sta Volevo introdurre il video di oggi ragazzi, visto che non sono a casa mia, quindi ho usato il telefono Infatti c'è un sound di merda, si vede di merda, me ne vado a fanculo, faccio prima Vi ricordate la sfida che avevo fatto con Greta, per quanto riguarda social face? Siccome quella sfida era troppo corta per valere un video, perché durava 4 minuti e mezzo Ho deciso questa volta di mettere due sfide di social face Quindi ragazzi, spero che il video vi piaccia, vi lascio alle challenge Abbiamo qui 6 torte, avete un minuto di tempo per indovinare una parola che io e Surry vi diremo Il primo che l'indovina si salva, l'altro becca una torta in faccia Perde chi prende più torte in faccia Ok, si parte, 3, 2, via Nel tuo sangue cosa c'è? Il globo... No, cosa ci sono nel sangue? I globuli rossi Ok Io non so un cazzo Che ti aiutano contro le malattie Quando ti devi proteggere Il virus Contro le malattie Quando ti devi proteggere Un antivirus Un anti... Corpo Anticorpi Ah, ha giovinato, ha giovinato Antivirus, anticorpi Non vai, si mi è sporcato 3, 2, 1, vai Gira, allora C'è una pellicola famosa, pellicola Gli alieni colorati in un mondo Mars Attack Con la coda Cosa? Fami lavori con la coda Te lo c'ho Avatar Avatar Eeeh E' indovinato prima lui E' indovinato prima lui Lo tengo anche io Lo stesso è certo Oddio Non le faccio E' indovinato prima lui E' indovinato prima lui Questa opera d'arte Questa opera d'arte è davvero brutta E' proprio brutta E' proprio brutta Sto opera d'arte E' proprio uno E' uno schifo No, schifo E' troppo No, anche io me lo dicono tanto Vero Si, abbiamo creato Di qua che abbiamo creato Macello No, è proprio uno Bordello No E' uno schifo Oppure Questo tavolo E' davvero uno Scempio Si, hai indovinato Si, hai indovinato Si, hai indovinato Sì Ma hai finito Ma hai finito Ma hai finito Ma hai finito A me fa leggermente schifo la panna Ma proprio leggermente Allora andiamo avanti Prossima Quando uno porta qualcosa in tavola Da bere in tavola Insomma Come lo porta? Sul vassoio Sul vassoio Cameriere All'interno di cosa? Ristorante Il vassoio Porti qualcosa da bere All'interno di batteria Cos'è che riempi? Il bicchiere Il bicchiere No La brocca Oppure Caraffa No Non è giusto È brocca È brocca È brocca È la carossa L'italiano È la carossa Era un bambino Ma cosa vuoi? Vabbè No Io vi odio Ma guarda che colpa Durante una frase Cos'è che ci metti in mezzo? Sesso Cos'è che metti in mezzo una frase? E' brocca Articoli Il sostantivo Metti in mezzo Tra 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 una parola e l'altra Articoli Creposizione Che cosa? Come? No La virgola La virgola La virgola La virgola L'ha detto più mi spiace Siamo tre a due È partito il tempo Ok è partito il tempo È partito Uno canta È tonato È tonato No Cosa canta? Le canzoni L'abbiamo detto di nuovo insieme Basta questo insieme Beccate questa torta L'ha detto prima lui L'ha detto prima lui Ok Signore e signori Io dichlaro Lorenzo il vincitore Non sei più un mio amico No Ma porco di quel cane Basta con queste torte E quindi ragazzi Questa era la prima challenge Spero vi sia piaciuta Adesso passiamo A quella dopo Che non è sporca Però c'è dello scotch Mi fate capire una cosa? Dobbiamo fare una surprise Siamo in mezzo alla gente Che cosa dobbiamo fare? Allora io vi porto sulle giostre Però in un modo un po' particolare Prima cosa posizionatevi Però ci sono le giostre Tu stai fermo qua Ma come posizionate? Tu mettiti così E io posso andare No 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 Tu mettiti dietro perché tanto non vai niente Ma cosa stai facendo? Io direi di iniziare a camminare ragazzi Ma camminare come? Penso di me Andiamo Un papà mantiene sempre le sue promesse Quindi oggi io li porto alle giostre Oh lo stomaco Oh ragazzi Si mi state muovendo Basta Adesso In collo Alla papà Alla papà Io non riesco a respirare Ho capito Guarda Oh guarda Cosa rifi Direi che la penitenza L'avete superata Siete stati bene Grazie papà Facci staccare Staccati È una che ci stacca papà Ragazzi Ragazzi Ti scappa Ciao ragazzi Ciao papà Mi sono sconciato Mi sono sconciato Mi sono sconciato Ma come si ci libera da qua? Non lo so Si ci libera Strappare E quindi ragazzi Queste erano le due challenge di oggi Io abito a Milano da solo No quindi La roba me la pulisco io Voi immaginatevi il vostro FabiJ Tornare a casa Con la tuta lercia Io l'ho buttata Cioè Che cazzo lavo io Non so manco come si apre la lavatrice Spero che il video vi sia piaciuto Concludo quell'episodio Fatevi sapere se volete altre challenge Niente direi che I like Almeno per la maglietta che ho buttato Ci vogliono Anche la pagina di Facebook È come nei video Tutta nella descrizione Se non sono riusciti Iscrivetevi e ci vediamo Al prossimo video Non c'ho il telecomando Quindi devo improvvisare Beh ragazzi Si è rotto Più o meno Asciugarmi i capelli così Con l'ascella Cioè io veramente Sto usando la fotocamera Per asciugarmi i capelli Perché non andava Il pone in bagno Ma dio Come cazzo si fa A non far funzionare La presa del bagno